ha finito le skill oh ma che cazzo non l'hai visto? ma che cazzo ha fatto quelle? è venuto di lictus e devono vado io vado io di tp tranquilli le 3 kill stanno scappando ma che cazzo io ho momenti in cui sembra che tutti i flash e momenti in cui no non posso scappare nulla la porca puttana io non l'ho scappato io e quindi ora voglio uscire no 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 ma dai per cosa per cosa per cosa io devo ancora giocare con ma meglio giocare a chiedere che cazzo state a fa no 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 beh i piti beh vabbè for aiuto Sì, vabbè Dai, ti muovi Ti muovi Ti muovi Oh dai, chi se ne fotte Andiamo, andiamo Sì Sì Attiva Prodotto Attacca Mino, attaccali Ah Vai via Ah Sì, Pat Sì 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 Sì